. Romina Paueri e Albano Carrisi si sono esibiti a Bolzano, durante il concerto sembra che il cantante pugliese abbia toccato il sedere della sua ex compagna. . Il 27 dicembre Romina Paueri e Albano Carrisi si sono esibiti sul palco del Palasport di Bolzano. . Un concerto imperdibile per i fan della coppia più amata della musica italiana. Dopo il tour in Europa, la coppia ha deciso di esibirsi anche in Italia e anche questa volta i biglietti sono andati a ruba. . Il giorno di Natale, Albano ha festeggiato insieme alla sua ex compagna Loredana Lecciso e i figli, mentre Romina ha trascorso le sue vacanze di Natale in Austria, come dimostrano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. . . Ma pochi giorni dopo il cantante di Cellino San Marco ha raggiunto Romina per esibirsi in nuovo ed entusiasmante concerto, in scaletta le canzoni che hanno reso famosa la coppia in Italia e nel mondo tra cui felicità, sempre sempre, ci sarà, libertà. . . Sui social sono apparsi una serie di video del concerto del 27 dicembre e uno di questi ha lasciato senza parole i fan. . Il motivo? . . Sembra proprio che la coppia siano più complici che mai. . 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 Tante ha voluto ringraziare il pubblico di Bolzano. Grazie a Bolzano per il vostro calore e la gioia che ci dare. Sembra proprio che il concerto sia stato un grande successo. Un concerto indimenticabile che ha lasciato tutti senza parole. Video, foto, tutti i materiali sono disponibili proprio sulle pagine social dei rispettivi fan club. Grazie a tutti. Grazie a tutti.